Il governatore regionale pugliese Michele Emiliano ha avuto un incontro istituzionale con i prefetti pugliesi ed il Dipartimento della Salute in merito alle aggressioni criticatesi ad inizio del mese in diversi ospedali, il più drammatico nella notte tra il 3 e il 4 settembre a Foggia. Nel corso dell'incontro è stata rivadita la necessità di dover predisporre, in base alle risorse, posti di polizia per dare una maggiore sicurezza nei vari pronto soccorso pugliesi. Inoltre è evidente che la sicurezza si può garantire con le forze di polizia, ma anche con una diversa progettazione delle strutture. A luglio scorso la Regione Puglia aveva approvato le linee guida per la sicurezza di operatori sanitari per prevenire le forme di violenza nelle strutture, ma è evidente che ciò non può bastare. Va ricordato che solo due settimane fa il ministro della Salute Schillaci aveva proposto di approvare in tempi rapidi l'arresto in flagranza di reato o in disferita di inantesa con il Ministero dell'Interno. Grazie 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 Grazie